Sono le 7.51 ora di oggi, l'Apollo si sta staccando dalla torre di Lancia, sta prendendo buona, è molto bello da vedere, c'è una grande fiamma luminosa, pesa 4.000 tonnellate. Ciao, ciao! Stiamo vedendo l'altra faccia della luna, è di un vito biancato, come una sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda, ci sono delle piccole colline di pietro, è molto, molto bello, ma non sembra un polpo adatto per viverci e lavorare. We are, we are Grazie a tutti.